Musica Musica All'inizio ho detto diamoci un orario, un quarto d'ora, era stato lui a dirmi Però come dire molta carne al fuoco Ora io, poiché sono ragusano e voglio subito entrare in questa visione un po' più, diciamo, consociativa Chiederei al sindaco di Comiso, perché so che deve andare via Di anticipare una sua breve riflessione Avremo modo un po' gli altri non me ne vogliano se alteriamo Quindi prego se si vuole accomodare Io aggiungo solo un apostillo, un codicillo a quello che ha detto Uccio Barone Una cosa interessante L'università non è solo didattica L'università è molto oltre la didattica È ricerca È il rapporto con il territorio di terza missione Ma è soprattutto formazione, alta formazione Che fuoriesce, diciamo, dagli studenti curriculari tradizionali Su questo è un punto importante E qui si gioca anche il problema del bacino di utenza Perché uno dei problemi che abbiamo avuto E Uccio ricorderà forse una vicenda tutta modicana Quando si aprì economia aziendale a Modica A 150 metri da noi, a 200 metri da noi In realtà uno degli effetti che si ebbe Fu che lo stesso bacino di utenza A un certo punto, in qualche modo, in qualche modo, crollò Ecco, noi abbiamo bisogno di prospettive Che guardino, ovviamente Che non si cannibalizzano tra di loro Ma che abbiano una visione più ampia Per quanto riguarda anche, diciamo Il bacino di utenza Grazie, grazie Buonasera a tutti Io faccio delle riflessioni Che traggo un po' Da quanto è stato fin qui detto E quindi mi scuserete Se procederò a salti e balzelli Riflessioni che Sono prodotte anche da una mia esperienza Diciamo come docente a contratto Fino a qualche minuto prima Che svolgessi Svolgessi il ruolo di sindaco Che oggi svolgo Partiamo dagli stakeholder Gli stakeholder sono i portatori di interesse E qui devo fare Se mi è concesso Una piccola postilla critica Al mio amico Giorgio Che è l'organizzatore Perché Gli stakeholders Chi sono? Sono gli studenti Non vedo In questo palinzesto Alcun studente Che racconti Il suo punto di vista Che dica Cosa significa Per lui Fare o per lei Fare università al sud Cosa significa Di cosa ha bisogno L'università Oggi Non Solo al sud Ma in tutta La nostra penisola Perché è da qui Che dobbiamo partire Se Dobbiamo creare Come lei ha detto Professore Una università Marketing oriented Si parte dai bisogni E dalle esigenze Le conosciamo Professore Barone O le decidiamo O noi O le decide Lei In qualità di preside Lo sappiamo Quello di cui hanno bisogno I nostri studenti Questo è il punto Ci chiediamo Perché Le università Oggi Sono veramente Diventate Mercantilistiche Io mi ricordo Che Il mio approccio Diciamo Non c'è più neanche L'esame Face to face Quando tu guardi Negli occhi L'altra persona Entri in empatia Con l'altra persona Oggi ci sono i quiz Come per prendere La patente Per prendere La patente Allora Io non sto più Capendoci nulla E Io frequentavo La facoltà di lingue E Nella facoltà di lingue Laureavamo Un sacco di persone Certo Il prodotto Era Doctor Ma la domanda è Era Doctus E ancora Anche quando Fosse stato Doctus Era Quel Tipo Di sapere Di conoscenza Di cui il mercato Ha bisogno Aveva E ha bisogno Queste sono le domande Che dobbiamo porci Non è così Perché i miei ragazzi Poi Privata consiglio E timpensa Dovevano andare All'estero A farsi Le ossa Per imparare L'inglese Il francese Il portoghese Lo spagnolo Questo è il punto Cosa stiamo Producendo Scusate se uso Ma seguo la scia Come dire Del Marketing Che prodotto Stiamo offrendo Al mercato È un prodotto Appetibile Il mercato Vuole questo Vuole questo Il mercato Ce lo siamo chiesti O facciamo sempre Queste Questi convegni Elitari Importantissimi Per carità Ma il contraltare Lo stakeholder Dov'è? Dov'è? Questo è il punto Io temo Che La nostra università Sia In qualche modo Scollegata Dal contesto Sociale In cui viviamo Qualche università Fa eccezione Ma in questo caso È l'eccezione Che non conferma La regola Questo è il punto Questo è il punto Perché Negli Stati Uniti D'America Vero è C'è tanto Ciarpame Però poi ci sono Delle strutture Di elevatissima Eccellenza E badate Le nostre Considerate qui Di eccellenza Sono Verso Gli ultimi posti A livello Internazionale Perché? Perché lì il discorso È un altro Si guarda al mercato Si vede quello Di cui il mercato Ha bisogno Dopodiché Si strutturano Programmi E lezioni A seconda Dell'esigenza Del mercato Perché fatemi capire Se no Torniamo Alla nobilis Perudita Peregrinazio Del medioevo Quando Questi nobili Che avevano pure il denaro Andavano in giro Anche per le nostre Università Per imparare Come funzionava Il mondo Non siamo In questa fase Quindi La misura Del successo Dell'università Qual è? La percentuale Di persone Che uscite Dall'università Si incastronano Nel mondo Del lavoro Sì o no? Stiamo avendo successo? Penso proprio di no Stiamo producendo Salvo ripeto Casi Eccezionali Delle persone Che Per trovare Una collocazione Sono costrette Quelli più bravi Naturalmente Ad andarsene Altrove Io credo Che bisogna Ridisegnare Tutto quanto Tutto quanto Questo è il punto Perché va bene Io mi ricordo Scusate Se salto di palo In frasca Mi ricordo Che si doveva fare Un master Preside Preside Barone Si doveva fare Un master Riguardante Il turismo A Catania Bene In questo master L'85% Delle lezioni Non me ne voglia Il mio amico Barone Erano storia di qui Storia di lì Storia di là Storia di giù Storia di su Scusate Ma Il marketing La promozione La pubblicità Dopo che abbiamo imparato La storia Della provincia di Ragusa C'è qualcuno Che poi sa promuoverla Questa storia C'è qualcuno Che poi sa raccontarla Sa narrarla Per creare appeal In questo territorio No E allora Se continuiamo Ma qui non c'entra La politica Che i suoi danni Li ha fatti E come Se non li ha fatti Qui c'entra La classe dirigente Accademico Universitaria Che deve Come dire Ricollocarsi E ricollocare Il proprio progetto Di studio In ragione Ripeto Di quello di cui Il mercato Ha bisogno Perché Nelle università All'estero Funziona così Che c'è Un pool Di aziende Che investe E qui è giusto In questa O quella Università Ma Già indica All'università Quali sono Le figure professionali Di cui Quell'azienda O quel segmento Di mercato Hanno bisogno Questo è quello Che dobbiamo fare Se no qui Scusate La Chiarezza Nel mio ragionamento Sono qui Ce la cantiamo E ce la suoniamo Tra di noi Senza che questo Produca Alcun Risultato Al fine Di migliorare Migliorarci E creare Perciò Delle Classi Dirigenti Onnicomprensivamente Intese Che possano Far andare Un pochetto Meglio Questo Paese Perché poi Non dobbiamo Lamentarci Se si parla Di queste Fughe Dei cervelli Quando sappiamo Benissimo Tutti Come funziona Come funzionano le cose All'università E quanto Alte siano le barriere All'entrata E lasciatemi usare Questo eufemismo Naturalmente Perché uno Possa dimostrare Sul serio Il suo senso E il suo valore Ma fino a quando Questo sistema Rimarrà Un sistema Chiuso E un sistema Per pochi Questi pochi Tendono All'autoconservazione Ma è fisiologico E è umano E l'autoconservazione Ci può pure stare Se però portasse A fare qualche Passo In avanti Io ci parlavo Con i miei studenti Molto più Forse anche per una questione Anagrafica Molto più Di quanto non Facessero degli altri E capivo quali erano Le loro suggestioni Le loro critiche Le loro frustrazioni Che il mondo Universitario Non riusciva A soddisfare Ecco perché Dobbiamo Ristrutturare Il nostro Mi piaceva Questa cosa Ristrutturare Il nostro Sapere E cercare Di orientare I nostri studi E perciò stesso I nostri studenti Verso Un sapere Utile Utile A fare in modo Che questi Ragazzi Riescano A trovare Soddisfazione In quella famosissima Piramide di Maslow No? L'autosoddisfazione Nel momento in cui Fanno Il lavoro Per cui hanno studiato E lo sanno fare E lo sanno fare bene Grazie Di cuore Grazie Al sindaco Che ha Spostato Diciamo L'accento Della Della discussione Per quanto riguarda La mia esperienza Devo dire Che da Alcuni anni Nella veste Di delegato Del mio Direttore di Dipartimento Alla qualità Uno dei temi Che ci ha Costantemente Accompagnato È stata La valutazione Ormai Questo siamo Al terzo o quarto anno Dell'efficacia esterna Dei nostri corsi di studio Con questionari In house Dati agli studenti Con incontri Con le parti Sociali Con Anche una valutazione Dei corsi Che viene fatta Degli studenti Alla fine Di ogni Ciclo Di Lezioni A questo tipo Di informazioni Che quando io ero All'università Ma quando io ho anche Iniziato a lavorare Per esempio Non si faceva Attenzione Non erano neanche Richiesti Seguono azioni Correttive Con molta difficoltà A volte Con molta difficoltà Però Per esempio Noi abbiamo Radicalmente Cambiato Molte cose Dall'orari Degli esami Dall'orario Delle lezioni Dagli incastri E La settimana prossima Presenteremo Una riforma Dei corsi di studio In cui Si tiene conto Un po' Di una serie Di dinamiche Strutturali L'università Questo lo fa Con difficoltà Con tensioni Con conflitti interni Però Ormai Da 3-4 anni 5 anni Lo facciamo Ogni anno E E sempre di più Questo Sta diventando In qualche modo Un vincolo Per 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 le università E credo che Diciamo Se ci si muove in questa direzione Forse si riesce 10 anni 10 anni è cambiato E quelle professioni Sono scomparse Stiamo molto attenti A questa visione mercantile L'università Da formazione Attenzione Quindi lei Dicendo così Sta dicendo Che l'università Non è altra Con i tempi Giusto Se mi dice Che i tempi sfuggono No Il tempo Il tempo No no Io scusate Direi una cosa Molto semplice Perché devo passare La parola Altrimenti ci sfugge Il ritmo del tempo Non lo definisce Soltanto ovviamente Il mercato Cioè il mercato È uno degli attori Che definisce Come dire Il senso Della realtà Ma non è L'unico L'unico Attore Quando a volte L'università O altre istituzioni Hanno ragionato Sul cliente In logiche Strettamente Mercantili Si sono prodotti Mostri E uno dei mostri Per esempio È la richiesta Attuale Del ministero Di ridurre I fuoricorso E sta creando Una serie di problemi Perché uno Dei rischi Per esempio È talvolta Di incentivare La promozione facile Ma questo è un altro discorso Di rischi E un altro discorso prosto In E un allora Grazie.